Gentili telespettatori, buona giornata. Ascoltate il livello molto basso che c'è nel Partito Democratico. La Giunta Bucci destina due milioni di euro circa per il restauro del sacrario di Salò. Il deputato del PD Orlando, nel piano pluriannale per le opere pubbliche, il Comune prevede 1,7 milioni di euro per il ripristino di sepolcri che contengono i resti dei caduti della Repubblica Sociale. Non so se avete capito bene. Il PD si lamenta perché la Giunta Bucci sta restaurando, sistemando delle tombe. Quindi il PD ce l'ha con i morti. Perché erano morti di una parte politica della Repubblica Sociale. Ricordo a questo PD, sempre più triste, sempre più squallido, che i morti sono morti. E che quelli che avevano aderito alla Repubblica Sociale verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, erano italiani che semplicemente pensavano che quella era la parte giusta. Perché quando c'è stato caos nell'Italia, caos tra chi... il re che scappava, il re che scappava. A Roma non c'era più nessuno. C'erano gli alleati che risalivano l'Italia. C'era un governo che si alleava con gli alleati. C'era un altro governo che nasceva nel nord Italia, la Repubblica Sociale. Gli italiani in quel momento non hanno capito più niente. Immaginatevi trovarvi in una confusione del genere. C'è chi ha pensato che la Repubblica Sociale fosse la continuità dello Stato. C'è invece chi ha pensato che l'altro governo, quello a Roma, mentre il re scappava, fosse quello legittimo. Quindi oggi lamentarsi perché la Giunta Bucci dà dei soldi per restaurare delle tombe è di uno squallore tremendo. Sono italiani che, come altri italiani, pensavano di essere dalla parte giusta. Comunque, continueremo a sentire questo squallore per tante altre cose. Pertanto la Giunta Comunale di Genova, nel piano triennale dei lavori, stanzia questi sosti di per sistemare il sacrario in commemorazione dei caduti della Repubblica Sociale all'interno del cimitero monumentale di Staglieno. La dicitura, che qualcuno ha definito un oltraggio alla storia, è qualcun altro una parola straniera che non conosco, che non ve la ripeto neanche, è però soprattutto un giallo. Chi ha inserito nel documento di bilancio, e a quale scopo, un oltraggio alla storia. Pensate un po', un oltraggio. Sistemare il cimitero è un oltraggio. E così dicono quelli delle minoranze, quelli che hanno perso le elezioni. Disgusta vedere quasi due milioni di euro stanziati per commemorare rastrellatori, fucillatori di partigiani e persecutori di ebrei, hanno tuonato per primi dal PD, seguito da altri esponenti del centro-sinistra dell'Ampi, che ha chiesto al sindaco Bucci di ritirare il provvedimento. Mai avremmo pensato di vedere un'iniziativa tanto abbietta. Il coro indignato dell'Associazione dei Partigiani. Voi sapete che i partigiani non esistono più. C'è un'associazione, ma i partigiani ormai sono tutti scomparsi. Bene, ma subito l'assessore ai lavori pubblici ha smentito la volontà dell'amministrazione di finanziare il restauro del Sacrario. Una tomba privata. Piuttosto c'è stato un evidente errore nella dicitura. Genova è antifa. Noi vogliamo sistemare il muro di contenimento alle spalle del Sacrario. Chiarimento che non è bastato affermare le critiche. Il deputato ed ex ministro del PD Orlando, intervenuto alla Camera, ha parlato di un insulto alla decenza, un oltraggio alla storia di Genova. Scusate, ma restaurare le tombe di chi che sia è un oltraggio alla memoria di Genova? Sono tombe dove ci sono dei morti? E se tu restauri delle tombe stai facendo un oltraggio? O stai solo sistemando il cimitero? Qualunque tomba sia. Mi sembra una cosa così assurda la solita tifoseria in Italia di uno squallore veramente indicibile. Dicono invece altri Il restauro del Sacrario è un nobile atto di pacificazione di civiltà. Quella dell'amministrazione Bucci è una volontà apprezzata dalla stragrande maggioranza dei cenovesi. Sostiene un esponente di destra. Tutto nella città, insegnita nella medaglia d'oro per la resistenza. Va bene la medaglia d'oro per la resistenza, ma una volta che sono morti, lasciateli in pace. Avranno sbagliato in vita a reputare che la parte giusta fosse quella lì. Ma provate voi a mettervi nei panni in quei momenti di persone dove c'è l'Italia allo sbando, carri armati dappertutto, bombardamenti, il re che scappa, un governo provvisorio, un altro governo al nord. La gente ha detto, mi metto di qua, mi metto di là, quale sarà la parte giusta? Provate voi a tornare indietro nel tempo e a dire, da che parte, beh, non con il senno del poi, ma con il ragionamento di quei tempi. Qual è la parte giusta? Qual è il governo legittimo? Che faccio? Oggi restaurare o mettere a posto una parte del cimitero lo troviamo come un oltraggio a Genova? Ma dai, ma non scherziamo, per favore, non scherziamo, eh? Non scherziamo, qui siamo a livello più basso che si possa immaginare. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che poi tra una ventina di minuti c'è un altro video e poi questi video dei due canali, Teleitalia, Teleitalia Seconda Rete, vengono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Anche i video dell'altro mio canale in cucina con Carla e Crochet, l'altro canale di Crochet. Tutti questi video vengono poi condivisi nella pagina di Facebook. Arrivederci a tutti e grazie.